O Signore, la parola Tua è parola viva, è parola efficace, discerne i miei sentimenti e i pensieri del mio cuore. Ti lodo, O Signore, perché Tu mi doni la Tua parola. Dal Vangelo di Malco al capitolo 2, versetti 18-22. In quel tempo i discepoli di Giovanni, i farisei, stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero perché i discepoli di Giovanni, i discepoli dei farisei, digiunano mentre i Tuoi discepoli non digiunano. Gesù disse loro, possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno digiuneranno. nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi. Gesù è un profeta nuovo. Le sue parole sono diverse da quelle degli iscrivi. Anche le sue azioni non seguono sempre la tradizione. Opera per esempio guarigioni proprio di sabato. Non segue tutte le regole della purificazione. E i suoi discepoli, lo sentiamo nel Vangelo di oggi, non digiunano secondo le regole e le tradizioni antiche. Gesù dunque volontariamente rompe delle abitudini, abitudini anche buone, perché vuole suscitare domande, vuol rompere degli schemi. Gesù infatti è consapevole di essere venuto a portare vino nuovo, che non può essere gettato sotto i vecchi, altrimenti gli otri si spezzano e il vino va perduto. Il suo insegnamento, dice Gesù, non è un petto di stoffa pesante che serve poi per rattoppare un vestito vecchio, perché la pezza rischia di rovinare il vestito. No, la sua presenza è novità. Egli fa nuove tutte le cose. Gesù si presenta come lo sposo e dunque anche la penitenza, il digiuno, con il suo arrivo deve cambiare prospettiva. Quando siamo chiamati alla penitenza, pensiamo ai tempi penitenziali come la quaresima, la penitenza deve essere memoria viva nella nostra carne, nella fatica della mancanza di cibo, per avvertire la mancanza della presenza fisica di Gesù, del fatto che la morte ha strappato Gesù dalla nostra vita. Ma proprio perché Gesù è risorto, noi quando digiuniamo, apriamo anche la nostra fatica, la nostra penitenza, la certezza che un giorno lo vedremo e vedremo lo sposo. Oggi poi siamo certi che egli è presente mediante il dono dello Spirito Santo. Ed ecco perché la vita del cristiano è chiamata alla novità, è chiamata a sperimentare e a testimoniare la consolazione della vittoria di Gesù sulla morte. Egli è lo sposo che è presente nello Spirito Santo, è lo Spirito Santo che allora rende nuove tutte le cose, è lo Spirito Santo il vino nuovo, frizzante, che rinnova la nostra vita. Noi non siamo tristi come chi non ha speranza. Sappiamo che in noi, anche se non si è rivelato pienamente ancora la nostra condizione di figli, siamo figli di Dio. Siamo chiamati nello Spirito a guidare Abba, anche se fatichiamo, anche se come una donna che soffre i dolori del parto siamo ancora chiamati a generare in noi il figlio di Dio. Non siamo ancora arrivati alla piena rivelazione, ma abbiamo la certezza, già da adesso, lo Spirito Santo ci è stato dato come caparra, come anticipo di vita nuova ed è lo Spirito Santo che feconda la nostra vita, che feconda le nostre azioni. In realtà possiamo vivere il nostro rapporto con Dio in maniera vecchia, dobbiamo ricordarcelo e oggi il Signore ce lo ricorda. Vecchio, non nel senso che non ci impegniamo per quanto ci è possibile a fare del bene. Vecchio perché limitiamo il nostro rapporto con Dio a delle abitudini, a delle preghiere, a dei riti, anche delle penitenze, ma che ripetiamo sicuri dello schema, riscuri dell'abitudine. Ci sentiamo a posto, appunto, dentro dei cammini già percorsi, a delle azioni che già conosciamo. Non siamo aperti alla novità. Oggi il Signore Gesù ci richiama la libertà dei figli di Dio che grazie allo Spirito Santo hanno la faccia e gli abiti di chi festeggia l'arrivo dello sposo. Abbiamo lo sposo in mezzo a noi ed è lo Spirito Santo che lo rende presente in mezzo a noi. Per esempio domandiamoci che cosa produce in me la partecipazione alla messa? È la partecipazione gioiosa al banchetto dello sposo. Siamo invitati e siamo chiamati alla beatitudine. Realmente la messa per me è fonte di beatitudine perché è celebrata nello Spirito. Pur dentro alla fatica della vita, oggi mi sono svegliato con la lode di Dio nella bocca. Come dice il Salmo, apri Signore le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. È bello vedere che Gesù, il maestro, il rabbì, che insegna ai discepoli la disciplina della festa. Bisogna imparare la disciplina della gioia, della pienezza, della festa. Che insegna ai suoi discepoli la lode, che li abitua a vivere in un clima di nozze. Possiamo in realtà pensare a tante iniziative oggi per diffondere il Vangelo. Possiamo impegnarci in tante maniere per trasmettere ai nostri giovani la fede in Gesù, ma c'è una condizione necessaria che sta prima ad ogni nostra azione. Il nostro cuore deve essere pieno dello Spirito Santo. Deve essere un cuore che ha fatto l'esperienza dell'incontro vivo oggi attuale con lo Sposo, presente in mezzo a noi, che ha fatto esperienza dell'ebrezza, dell'entusiasmo della festa di nozze. Il nostro volto, segnato dalla consolazione dello Spirito, dolce ospite della nostra anima, aiuta allora il fratello a riconoscere il fascino del Vangelo, di una notizia che è una notizia bella, che è una notizia buona. Spirito Santo, rendici gioiosi testimoni del tuo Vangelo, rendici testimoni liberi di riconoscere le novità a cui tu ci chiami, a vivere oggi la freschezza e la pienezza della vita nuova che tu regali a chi invoca il tuo Spirito. Aiutaci realmente a riconoscere che il tuo è un vino nuovo, che esige otri nuovi. Ricordo che oggi la comunità di Santi Liberale e Mauro celebra il suo patrono San Mauro. Invito tutti a chi può partecipare alla liturgia della Messa delle 18 che è preceduta prima dalla recita dei Vespia alle 17 e 30 e ancora prima del Rosario. È un momento bello per la nostra comunità. Invochiamo ora la benedizione del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata.